Avere un piano B quando si è calvi o barbuti è strettamente necessario. Ad esempio, avere un rasoio di riserva, avere le competenze giuste per riparazione al volo in pochi minuti, fare un corso di crescita personale a 9,99€ in grado di farti sentire perfettamente rasato anche con ciocche pensolanti o barba lasciata a metà. Sono gli altri che non sono in grado di apprezzare il tuo stile. Personalmente ho optato per la riparazione al volo, infatti il cavo a spina del rasoio è stato perfettamente riparato in pochi minuti anche se progettato per essere usa in getta, in quanto pressofuso, ma con un po' di manualità, un taglierino affilato, un saldatore a stagno, della colla a caldo ed una guena termorestringente, i capelli o la barba torneranno al livello desiderato, ove e se presenti, altrimenti non resta che andare dal dottor Abdul ad Istanbul e farsi trapiantare bulbi adatti anche alla più desertica pelata, sperando che il gatto donatore abbia una gradazione compatibile, ma vitto e alloggio compresi valgono il rischio a prescindere. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse iniettare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie per la visione. 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 Grazie per la visione.